Streda Questa è una strada di mani E' un formatore che mi ha andato a Napoli che poi in testa Ok Ora comprensiamo La stessa è una strada di mani Ci è venuta l'arco E quindi possiamo fare un tutto quanto prima Avanti cosa? Sì, vai tranquilla che facciamo così. Sì, sei così. Sì, sei così. Vai tranquilla, guarda, diventa così. Però Uli, dobbiamo darci una smassa. Top!